omicidio di fano disposta alla reclusione in carcere per sfuggiti continua la caccia al pesarese evaso federico marcelli sicurezza urbana nuove risorse per la polizia locale di abilità e degrado le richieste del quartiere villa fastigi un calendario fatto col cuore per pesaro 20 24 buonasera pubblico di rossi rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale del canale 80 che in questa edizione di giovedì 23 di novembre apriamo occupandoci ancora del caso dell'omicidio di fano della 66 n rita talamelli è stato infatti convalidato oggi l'arresto per angelo sfuggiti accusato di omicidio volontario della moglie la cui morte è avvenuta per strangolamento con un full hard come certificato dagli esiti della autopsia il giudice ha colto la linea dura richiesta dalla procura di pesaro ci sarà infatti reclusione in carcere non appena le condizioni di salute di sfuggiti saranno compatibili con la detenzione in penitenziario va infatti ricordato che l'arrestato è attualmente ricoverato in ospedale dopo il suo tentativo di suicidio nel frattempo sarà adottata la misura degli arresti domiciliari nella struttura sanitaria e continuano invece le ricerche a tappeto estesa tutta italia di federico marcelli 49enne ex restauratore pesarese evaso lo scorso 15 novembre dagli arresti domiciliari l'uomo ricordiamo è stato condannato ad una pena cumulativa di 10 anni 4 mesi per due casi di violenza sessuale maltrattamenti e lesioni nei confronti di due donne marcelli si reso irreperibile da otto giorni quando ha rotto il braccialetto elettronico e abbandonato la casa della madre dove era detenuto in attesa del verdetto della cassazione in merito alle sue condanne sono scattate le misure di protezione per le due donne vittime di violenza una delle quali ha anche avuto un figlio dallo stesso marcelli e dunque vi abbiamo dato due notizie di violenza di genere che mettono il carico al valore della prossima giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre sabato 25 novembre tante le iniziative sul territorio che vi stiamo ricordando in questi giorni compresa una mostra che si terrà nella galleria del rossini center di pesaro la mostra verrà inaugurata il 25 novembre verso la galleria del rossini center in via gagari in a pesaro e durerà fino al 3 dicembre un progetto che si chiama parole in tour sono sette parole sette vocaboli noti e meno noti e sono parole nuove che descrivono i comportamenti violenti e cerchiamo di contrastare la violenza di genere con altre vocaboli e tutto questo nasce per sensibilizzare la popolazione all'obiettivo appunto di di far sì che questi atteggiamenti vengono contrastati anche perché comunque sono certe parole non sono neanche percepite come parole violente quindi stiamo cercando di contrastare questo fenomeno la prima cosa da fare sia quella della prevenzione e proprio per questo portiamo avanti i progetti che vanno dalle scuole alla cittadinanza qualche settimana fa abbiamo anche tenuto un corso di formazione insieme all'ordine dei giornalisti perché anche nel linguaggio è importante essere attenti e comunicare correttamente le informazioni quindi è fondamentale prevenire poi noi abbiamo un centro di violenza che dà una risposta molto importante sono quest'anno 186 donne che si sono avvicinate a noi e quindi dobbiamo lavorare su più fronti abbiamo anche in campo la rete virginia che è una rete istituzionale che abbiamo voluto fortemente che riunisce tutti i soggetti che sul territorio dalle forze dell'ordine all'ospedale al consultorio al centro di violenza sono impegnate per dare risposta alla violenza di genere. Sgomento a Fano e Pesaro per la morte di Luca Casagrande 45 anni geometra che gli era accusato un malore fatale mentre era in autostrada a bordo del suo furgone aziendale all'altezza di cattolica. Ha avuto la prontezza di accostare ed è poi venuto a mancare a bordo della carreggiata all'interno del suo abitacolo. Una notizia che ha lasciato sconcerto a Fano dove Casagrande è nato e a Pesaro dove viveva con la moglie e due figli. Incredulità soprattutto per l'assenza di patologie pregresse in un uomo di appena 45 anni. Cordò l'espresso anche dalla società sportiva Italservice con la quale Casagrande collaborò oltre ad essere il cognato della presidente Simona Marinelli. Il funerale si svolgerà domani 24 novembre a Fano alle 10 alla chiesa di San Paolo Apostolo al quartiere Vallato. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti oggi all'hotel San Marco di Pesaro dove una donna si è barricata all'interno della propria stanza al quinto piano della struttura. Vani tentativi della direzione dell'albergo che hanno trovato la porta sbarrata. Dopo ore i pompieri hanno liberato la donna intervenendo con un'autoscala e forzando una finestra. La donna di nazionalità tedesca avrebbe cercato di togliersi la vita. È stata poi raggiunta dal personale del 118 che le ha prestato le prime cure. Importante investimento di 800 mila euro della regione Marche sulla sicurezza urbana che destina nuove risorse al potenziamento della polizia locale dei vari comuni della nostra regione. Ammontano a 800 mila euro le risorse stanziate dalla regione Marche per un bando rivolto ai comuni destinato a potenziare i servizi di polizia locale. Un potenziamento pensato per destinare tecnologie più performanti agli agenti nel servizio di sicurezza urbana e di prima sentinella verso i fenomeni di microcriminalità. Il tema è che la polizia locale, che è una materia di competenza delle regioni, fino ad oggi si è occupata solamente nelle grandi città della criminalità cosiddetta micro, ma si tratta di criminalità, si tratta di reati. Quindi noi dobbiamo riuscire a far sì che le nostre polizie locali abbiano le strumentazioni che i poteri già li hanno dalla legge. La polizia locale ha gli stessi poteri delle forze di polizia dello Stato, sono agenti ufficiali di polizia giudiziaria, ma molto spesso non hanno le strumentazioni, la formazione e così via. Questo intervento è così importante della regione Marche, stiamo parlando di oltre 700 mila Euro di investimenti. Servono essenzialmente a garantire che il livello della sicurezza di base, la sicurezza urbana, possa garantire quella cooperazione delle polizie locali con le polizie dello Stato. In sostanza questa materia, che è una materia così delicata perché va a colpire le fasce della popolazione più debole, i ricchi hanno i sistemi di allarme, hanno le guardie giurate e così via. Molto spesso questa criminalità va a colpire le fasce sociali più deboli, quindi noi intendiamo garantire come politiche di sicurezza della regione Marche un livello di sicurezza più alto coinvolgendo appunto la professionalità degli operatori delle polizie locali. Stiamo parlando naturalmente di tecnologie dirette all'accertamento dell'abuso di sostanze stupefacenti, dell'abuso di alcol, stiamo parlando di tecnologie dirette a individuare le autovetture che non sono coperte da assicurazione, RCA, che è un fenomeno molto esteso e molto pericoloso. Poi stiamo parlando anche di tecnologie dirette a inquadrare la scena del crimine, quindi tecnologie diciamo così che sono inquadrate nell'ambito della cosiddetta polizia scientifica. In sostanza la polizia locale che ha i poteri e le funzioni non potrà a continuare diciamo così ad essere considerata una polizia di serie B ma deve essere annoverata tra le forze di polizia dello Stato, tanto più come dicevo per il fatto che è in grado di intercettare fenomeni di devianza prima che diventino reati. Ed ora ci occupiamo delle quartiere peserese di Villa Fastigi e lo facciamo puntando l'attenzione su diversi temi dalla viabilità ad alcuni progetti accantonati da anni. Velocità troppo elevata a Villa Fastigi. Un problema quello della sicurezza stradale che è stato oggetto martedì sera di un'assemblea di quartiere alla presenza dell'assessore Belloni e dei tecnici comunali. Focus sull'intersezione delicata fra Via Fastigi e Strada in Sala dove il Comune ha messo sul piatto un'ipotesi di allargamento della carreggiata per migliorare visibilità oppure un cambio di senso di marcia. Problemi di viabilità che per il quartiere si aggiungono a diverse altre situazioni trascurate. Queste due ipotesi che il Comune ci ha portato, ipotesi A e ipotesi B, verranno vagliate nel consiglio di quartiere della prossima settimana sperando di fare contenti sia i residenti ma soprattutto dare veramente un senso di sicurezza. Anche se, come hai detto nella premessa, le richieste da parte del consiglio di quartiere fatte, ricordo, due anni fa quando il sindaco a metà mandato è venuto qua a chiederci cosa avevamo bisogno per il quartiere erano ben altre. Quindi qui parliamo di un attraversamento della via principale, quindi di adottare dei sistemi per rallentare la velocità. Poi anche e soprattutto il discorso delle rotatorie, siamo qui davanti a una che è lasciata l'incurra più totale da diversi anni, senza più il discorso dell'acqua che scorre, ma soprattutto anche i monumenti, la parte in pietra è lasciata completamente abbandonata. Le altre due rotatorie che sono quella davanti al paro Snoopy e quella che conduce alla zona industriale, rotatorie che potrebbero essere, visto che sono anche l'accesso alla città da Urbino, potrebbero essere sfruttate ben diversamente. Parlando di sicurezza, noi abbiamo proposto tutte le possibili soluzioni immaginabili, quindi tutte queste cose sono state accantonate. Si è aggiunto recentemente anche e soprattutto per la sicurezza il discorso che il quartiere ha voluto fortemente con un'altra assemblea che si è svolta durante il corso dell'anno dell'attraversamento di Villa Fastigi nella zona della rotatoria di Palas Snoopy perché lì verrà un centro sportivo molto grande, quello della Vispesaro, con annessi, paddle, campi da calcetto, campo da calciotto, il campo grande che sfrutterà la Vispesaro eccetera eccetera, che dovrà servire anche agli settori giovanili della Vispesaro con l'attraversamento di una rotatoria delicatissima e pericolosissima, avevamo chiesto il sottopasso, questo sottopasso è stato fatto, ci dovrebbero essere i progetti che io sappia, però non è stato finanziato. Siamo su tutte le pagine dei giornali, questi giorni siamo usciti come centrodestra con questo problema che c'è stato, che il Comune sembra che non abbia partecipato a un bando che poteva servire per raccogliere 300 mila euro a questo scopo, non ha partecipato destinando le somme e preferendo partecipare alla realizzazione del nuovo piazzale Marconi davanti al nuovo palasport auditorio. Il sindaco di Acqualagna Luca Lise è stato presente ieri all'udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro, una giornata memorabile per il primo cittadino che ha potuto consegnare al Pontefici gli splendidi e profumati tartuffi bianchi di Acqualagna. Il primo mattone per l'acquisto di un nuovo macchinario di ultima generazione per la radioterapia. L'azienda sanitaria e l'unità operativa complessa di radioterapia oncologica esprimono gratitudine per il contributo di 35 mila euro ad Alceste Vitre a tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo VAG per aver dedicato alla struttura il regalo di compleanno dell'imprenditore, il regalo ricordiamo degli 80 anni. Un gesto che conferma l'attenzione ai bisogni del territorio e l'impegno in progetti di solidarietà e utilità sociale. Oggi è stato presentato in provincia un nuovo itinerario cicloturistico inserito nell'alta valle del Metauro e del Foglie. Il progetto è stato tracciato dalle associazioni Montefelto Adventure Bike & Walk e Zero e Mezzo ciclofficina assieme alle guide cicloturistiche dei tre bikers col coordinamento della start-up Outdoor Market Life e dall'azienda AG20. Si tratta di un circuito di 270 chilometri che include 4 anelli singoli da 36, 124, 78 e 31 chilometri di diversa difficoltà e dislivello. Un percorso che colleghi comuni che hanno patrocinato e sostenuto il progetto, ovvero Belfort-Lisauro, Borgo Pace, Lunano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Pian di Medeto, Sant'Angelo, Invado, Sestino e Urbania insieme all'Unione Montana, Alta Valle del Metauro. Dove sono? Where am I? Questa è la domanda a cui sono stati chiamati a rispondere 57 artisti allievi dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, dell'Estonia Academy of Arts e dell'Arto Academy of Latvia e della Vilnius Academy of Arts. Le loro opere saranno infatti i protagonisti della quinta edizione di Surprise Mostra Premio in programma da oggi al 7 gennaio e che da quest'anno allargerà i suoi spazi espositivi, non soltanto al Centro Arti Visiva e Pescheria che vi stiamo mostrando, ma anche all'ex mattatoio e galleria Bramante di Fermignano. Il Rossini Opera Festival presenterà il programma della sua edizione 2024 il 27 novembre al Consolato Generale di New York e il 30 novembre all'Ambasciata d'Italia a Berlino. Il programma quest'anno occuperà un periodo di ben 17 giorni, quattro in più del consueto in occasione di Pescheria Capitale Italiana della Cultura 2024. Gli eventi di New York e Berlino, ospitati dal Consolo Generale d'Italia a New York Fabrizio Di Michele e dall'Ambasciatore d'Italia a Berlino Armando Varricchio, saranno seguiti da un concerto tenuto da Chiara Tirotta, Pietro Daini e Giuseppe Toia, formati nell'Accademia Rossignana Alberto Zedda. In programma brani della Cenerentola nell'ambito del progetto speciale Cenerentola 25 finanziato dal Ministero della Cultura. 12 scatti suggestivi di una Pesaro che si avvicina a Capitale della Cultura. Ecco il calendario 2024 realizzato dal concorso internazionale musica di Pesaro. Questo calendario presenta Pesaro, le bellezze di Pesaro, i panorami, gli scorci, i luoghi suggestivi ma anche le emozioni, le tradizioni che Pesaro ha come città e sono raccontate con gli occhi del cittadino perché il concorso da dove sono state estrapolate queste 12 immagini era aperto a tutti i fotografi cittadini. Lo chiamo il calendario fatto col cuore perché immagino girare per Pesaro e catturare delle immagini che raccontino la propria città, la città che noi viviamo ci vuole cuore, ci vuole un atto di generosità anche nel restituire uno scatto fotografico. Quindi ringrazio tutti i fotografi che hanno partecipato, complimenti a chi si è aggiudicato una pagina di questo calendario che penso passerà la storia perché è un anno speciale, un anno da fuochi d'artificio. Le persone che vengono premiate sono tutte di un grande valore e ho voluto fare questo cuore proprio perché rappresentasse la loro musica e rappresentasse quello che loro sentono per Rossini. È un cuore fatto a specchio proprio, che ti riflette e sembra che sia quasi pulsante e quindi io spero che questo cuore dia loro la possibilità poi di avere questa carriera non solo all'interno del loro paese ma in giro per il mondo perché sono dei ragazzi e degli artisti veramente eccezionali. Ed ora un altro tuffo nella magia del Natale che si avvicina, lo facciamo andando a fare visita alle tante attività proposte dal Garden Center Florio di Pesaro. Il Garden è un luogo da vivere per grandi e per i più piccoli. In questo periodo per gli adulti abbiamo la Florio Academy, ovvero una serie di corsi in questa stagione tematizzata a Natale dove ad esempio parleremo di come addobbare un albero oppure di come preparare una tavola per il giorno della vigilia o di come andare a creare un centrotavola. Una serie di iniziative che potete trovare sia sulle nostre pagine social oppure venire a prenotare direttamente qui in Garden. Invece per i bambini avremo tutta una serie di iniziative che renderanno ogni weekend magico. Quindi sabato pomeriggio, domenica, tutto il giorno ci saranno Babbo Natale nella sua casetta che aspetterà i bambini per la consegna della letterina, la slitta di Babbo Natale dove fare una foto o un selfie come ricordo e poi la dolce cavallina all'interno del presepe con una location completamente rinnovata, quest'anno tematizzata con delle piccole casette a stile nordico. Avremo poi una serie di laboratori più e più piccolini, regaleremo un narciso per ogni bambino il quale potrà piantarlo all'interno di un vasetto e aspettare pazientemente la fioritura nel periodo primaverile e poi la scrittura della letterina all'interno del laboratorio dedicato con l'aiuto degli elfi per poi consegnarla direttamente a Babbo Natale. E poi l'immancabile laboratorio dell'alberino dove ci sarà la possibilità sempre con l'aiuto dell'elfo di Babbo Natale di piantare un alberino in un vaso di terracotta e mettere insieme il primo addobbo. La novità di quest'anno che oltre ad essere arrivato Babbo Natale abbiamo anche il Grinch. I due molto spesso tendono un po' a litigare, si fanno scherzi a vicenda ma il Grinch è assolutamente molto contento di aspettare i bambini tutti i sabati pomeriggio e domenica pomeriggio. E per chi ci segue da tempo si sarà chiesto che fine avrà fatto il presepe. Quest'anno ha un'ambientazione tutta sua, più calda, un pochettino più intima dove potrete ammirare un presepe con figure a grandezza naturale. Vi aspetto al Garden Center Florio per vivere l'atmosfera natalizia perché siamo aperti tutti i giorni e tutti i giorni sarà Natale, ma i weekend saranno magici. Si conclude qui questa edizione di Rossini News ma prima di salutarvi vi ricordiamo la nostra prima serata dedicata alla diretta sportiva di Insieme a Canestro come ogni giovedì focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro condotto dalla nostra Elisabetta Ferri. I ospiti della puntata saranno la guardia della VL Scott Banford e il giornalista Luigi Illuminati oltre naturalmente ai commenti in diretta di voi telespettatori al numero whatsapp che vedete in grafica 370-366-7210. Appuntamento come detto alle 21.20. Altra diretta, quella consueta del mattino che vi tiene compagnie dal lunedì al sabato è alle 7.20 con l'informazione di buongiorno Rossini anche domani. Appuntamento dunque con la rassegna stampa dei quotidiani locali. E si chiude invece qui questa edizione informativa di Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.